Mangiato un pochino? Brava tesoro, bravissima. Ora facciamo la medicazione, bella mia, urgentemente. Vero piccolina? Amore, hai visto che compagnia tesoro? Non sei sopra. Ecco qua, una bella garza, amore. Allora tamponiamo col pecatina, queste garze sono uniche, bisogna rispettare un po' non c'è. Sì, amare. Ecco qua, l'ho tagliata. Devo portarla fuori. Grazie.